Lutto nel mondo del calcio è scomparso l'ex allenatore del Certosa di Padula, Tonino Paolini, già bomber degli anni 70, poi divenuto allenatore. Con la squadra del suo paese aveva vinto tre campionati in seconda categoria, l'ultimo tre stagioni fa, quando portò i Certosini alla vittoria finale. Una vita la sua spesa a fare e promuovere lo sport tra i giovani padulesi. Il mister, così lo chiamavano e tutti sapevano che ci si riferiva a lui. Nicola Senatore, proprio dopo la vittoria del Certosa di Padula, con la sua trasmissione L'altro calcio in onda su 105 TV, gli conferì il premio alla carriera. Un personaggio che ha fatto la storia del calcio del Vallo di Diano, un personaggio che a livello calcistico, quando si ci mette di impegno e quando si ci mette lui, non ce n'è per nessuno. Le domande a un microfono, a una telecamera non sono il mio agio, preferisco più l'agio dei spogliatori. La faccio tutti i miei diffusi perché mi hanno sopportato per un anno intero e mi hanno fatto un coro ogni domenica, mi hanno fatto emozionare a questa età, non è che una cosa tutti i giorni. I funerali di mister Paolini si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Francesco a Padula. Domenica la sua squadra, il Certosa di Padula, che partecipa al campionato di seconda categoria, debutterà a Vatolla e giocherà con il lutto al braccio.